in un filo mettiamo sempre dove abbiamo incrociato il filo per fare la seconda fila due mezzi cristalli sempre millimetri 6 la misura importante oppure due bigola in un filo nell'altro filo un terzo mezzo cristallo dove dobbiamo incrociare il nostro filo e andare a creare una seconda fila del nostro anello ecco qui ci dobbiamo trovare in questo modo adesso con il filo che esce da sinistra passiamo il filo nel mezzo cristallo che in questo punto non so se si vede bene proprio di fianco al quadratino così in questo modo cerco di farvelo vedere meglio ecco qui e tirate il filo a questo punto nell'altro filo aggiungiamo un mezzo cristallo millimetri sempre e incrociamo in un secondo mezzo cristallo e tiriamo il filo ecco qui adesso ripartiamo di nuovo il filo vicino a questo mezzo cristallo proprio questo qui che abbiamo vicino al quadratino adesso vi faccio vedere meglio ecco magari così si vede meglio passo il filo proprio qui e tiro aggiungo altri due mezzi cristalli e questo punto il nostro lavoro è terminato la base è terminata questa è la base del nostro lavoro dove dobbiamo creare dei fiorellini del nostro anello ecco qui la nostra base è terminata se la fate anche di dicono il nostro lavoro è terminata e molto più carina che poi mezzi cristallini quindi tutti è Grazie.